Al comando tutti sapevano quello che facevo, andavo in borghese perché lavoravo sotto copertura e questa la spiegazione fornita al magistrato da Pasquale Solari, il maresciallo dei vigili urbani di Pescara finito agli arresti domiciliari a seguito dell'indagine della Guardia di Finanza di Pescara con l'accusa di truffa pluriaggravata ai danni del comune. Per le fiamme gialle la gente della municipale addetto al controllo del Parco d'Avalos timbrava il cartellino e poi lasciava il posto di lavoro per dedicarsi alla pesca oppure per andare al bar o giocare al videopoker. Il sottoufficiale, assistito dai suoi legali nell'interrogatorio di convalida dell'arresto, ha riferito che tutti all'interno del comando sapevano del suo modus operandi, senza orari fissi perché il suo mandato era quello di salvaguardare il parco da tossicodipendenti e spacciatori senza che questi ultimi potessero controllare orari e spostamenti. Un agente infiltrato, insomma, che per questo motivo non sottostava le normali regole in vigore per gli altri agenti della municipale. Anche se, bisogna dirlo, la tesi difensiva fatica a spiegare le uscite in barca per Pescara e le passeggiate in riviera a Francavilla o le giocate nelle agenzie di scommesse al videopoker riprese dalla Guardia di Finanza. Nell'ordinanza di custodia cautelare, il GIP del Tribunale di Pescara, Luca De Ninis, punta il dito contro quella che chiama assenza di controlli e contro la complicità di colleghi e superiori. Un fatto questo che sarebbe confermato proprio dalla versione che il maresciallo ha reso al GIP raccontando che tutti al comando sapevano dove trovarlo al momento della necessità, cioè al bar. Per il momento Pasquale Solari resta ai domiciliari, ma rischia il licenziamento. Resta da capire l'evoluzione di questa indagine che potrebbe portare ad un vero e proprio terremoto all'interno della municipale pescarese.